Abbiamo una telefonata, lo scopro anch'io in diretta, Brambati, Massimo Brambati? Sì, buonasera. Massimo, buonasera. Ciao Massimo, che piacere. Che piacere e che sorpresa. Che piacere. La regia mi ha segnalato che c'eri tu al telefono, come mai Massimo? No, dunque Federico, volevo solamente, siccome lavoro per questa televisione da vent'anni, da quando ho smesso di giocare, ho ancora il rammarico di non aver speso la notizia di Cappello alla Juve nel momento in cui mi chiamò nel 2004 un cameriere che sentì la telefonata, ascoltò involontariamente o volontariamente non lo so, la telefonata che è in percorso tra Luciano Moggi e Giorgio Tosatti. Io oggi invece chiamo per dire... Attenzione, scusami, devo sedere? No, tu stai pure seduto, siccome abbiamo visto questa cosa e ho risposto pure io. Però adesso ho parlato, non più tardi di qualche ora fa, con una persona... Io non posso dire il nome di questa persona perché ho una posizione di grandissimo rilievo in questa storia che riguarda naturalmente Cristiano Ronaldo e la Juventus. pare che il contratto sia già pronto e fatto, già prima del Mondiale, che il signor Ronaldo prenderà parte dell'ingaggio, e io qui non entro nei dettagli, dall'Adidas e parte del contratto lo pagherà la Juventus, diventerà l'uomo immagine della Fiat e credo che, viste che sono uscite determinate notizie in anticipo e si è un po' scoperto tutto, io credo che imminentemente ci sarà anche l'annuncio. Cioè, vale a dire, secondo me già settimana prossima qualcuno si presenterà per annunciare questo ingaggio. Allora, Massimo, ci stai dando una notizia, perché ne stiamo parlando da tutta la sera, stiamo dicendo che è una trattativa abbiata, però tu ci stai dicendo che l'accordo è già stato fatto e che forse già settimana prossima questa operazione viene annunciata, ho capito bene, Max? Sì, hai capito bene, come ho capito bene anch'io la cosa che mi ha riferito questa persona e è talmente alta la posizione di questa persona che io onestamente non mi sono sentito di fare ulteriori domande, perché mi sembrava neanche troppo garbato in questo, diciamo così, incontro che ho avuto per altri motivi, mettermi lì a sindaccare, questa è una cosa comunque che si fa di solito di riguardo. Questa persona l'ha detta, io l'ho ascoltata, l'ho sentita, è una persona di grandissimo rilievo, immagino che sia vera ed immagino quindi che Cristiano Ronaldo sarà probabilmente un calciatore della Juventus. Max, scusami Francesco, ti do subito la parola, solo per concludere, ti risulta, Max, magari ne hai parlato con questa persona, che la cifra sia quella che dicevamo noi poco fa, cioè 100 milioni? Dunque, allora, su questo, io non so se è vero o non è vero, pare che è vero che c'era una clausola di sicoria altissima, ma che valeva solo per determinati club, valeva solo per il campionato inglese, valeva solo per il Barcellona e valeva solo per il Paris Saint-Germain. Quindi non per la Juve? Non per la Juve, non per le altre squadre, naturalmente elevato il campionato inglese, elevato il Barcellona, elevato il Paris Saint-Germain, dimmi tu quali sono le squadre che possono spendere determinate cifre, quindi per quello, a mio avviso, la cosa è fattibile anche dal punto di vista del costo del cartellino, tra virgolette di questa clausola. Del costo del cartellino, c'era a Opini, Massimo? Per far capire quanto Massimo è serio quando dice queste cose, oltre che essere amici ormai da anni, settimana scorsa ci siamo sentiti io e lui su questa cosa e non abbiamo fatto altro che ridere al telefono per un quarto d'ora. Cioè adesso la situazione si è capovolta, probabilmente perché come dice lui è sfuggita di mano a chi non doveva probabilmente la cosa, a qualcuno è sfuggita, perché se no non si trova una cosa così accelerata. Certo, certo, probabilmente è una cosa che come ci diceva Massimo è già stata imbattita addirittura prima che ci fosse... Come un po' il fatto di Guain che viene preso a marzo e non a luglio e vende poi fuori dopo un torretto, probabilmente era qualcosa che era da tenere più celato e evidentemente qualcuno non ce l'ha fatto. Una cosa sì, ma dobbiamo, credo, salutare Massimo, però c'era anche verga. Purtroppo tra le altre cose non sono neanche a Milano, mi trovo a Roma.